E' questa l'estate della ripartenza, con alberghi, ristoranti e strutture ricettive praticamente sold out. Sono infatti dati confortanti quelli che fotografano la stagione turistica a Retina, con una tendenza in continua crescita che vede la città e il suo territorio avvicinarsi ai numeri da record registrati nell'estate 2019, quando la pandemia era ancora lontana. A scattare l'istantanea è stata la Fondazione Arezzo in Turchia preso in esame un rilevamento effettuato dal portale AirDNA, che registra le prenotazioni sull'extralberghiero. Rispetto al giugno 2019, dunque, il 2020 vedeva un calo di presenza nel territorio pari a meno 41%, mentre il giugno 2021 si attesta a meno 21%, un dato che racconta quindi una crescita che va verso un deciso miglioramento a luglio. Il luglio 2020 segnava infatti un abbondante meno 32% rispetto all'anno precedente. Nel 2021 si abbassa almeno 10%, dati che fanno besperare e che reggono anche il confronto con quelli delle altre città toscane. Ma non solo, l'agosto 2021 si preannuncia in pareggio se non in crescita rispetto a quello dei record 2019 e anche per il settore alberghiero i dati sono incoraggianti. Sono numeri confortanti, commenta Simone Chierici, assessore al turismo del Comune di Arezzo e presidente della Fondazione Arezzo in Tour. In un momento in cui regna ancora l'incertezza e sono in vigore ristrettezze enorme e rigorose, vedere la nostra città che torna ad essere meta prediletta dai viaggiatori ci fa ben sperare. Questi dati conclude e ci dimostrano che l'impegno costante sul piano della promozione e della valorizzazione turistica paga.